Caro neofita del ciclismo, ti sei da poco appassionato a questo sport e stai facendo uscite sempre più lunghe. Adesso c'è sole, bel tempo, giornate lunghe, vacanze e quindi potrebbe essere arrivato il momento di fare la vostra prima uscita da 100 km. Noi da professionisti abbiamo fatto tante uscite lunghe in bicicletta, da ex pro probabilmente ancora più lunghe, colpa del maranga, e quindi potremo darvi tanti consigli utili. In questo video vi consiglieremo come affrontare i vostri primi 100 km. Primo consiglio, imparate dagli esperti, uscire in compagnia può essere utile perché avete qualcuno di più esperto al vostro fianco e farete anche meno fatica stando a ruota. L'importante è che questa persona sia di buona compagnia e non sia sempre in modalità racing perché se poi andiamo sempre ad alta intensità per stare dietro al nostro amico rischiamo di non arrivare anche a casa. Esatto. Ciao Giorgio, ti andrebbe di accompagnarmi per i miei primi 100 km? No, a posto così, grazie. Ecco, se il vostro amico in questione è Giorgione potrebbe andarvi molto male. Maranga, l'ultima volta che mi chiesti di fare un giro erano 400 km, direi che ho dato. Capito, ma una volta non fa statistica. Abbiamo già parecchi dubbi sul fatto che riusciremo a fare o meno i nostri primi 100 km, non aggiungiamo ulteriori variabili. Prepariamo prima di partire un percorso che può essere adatto a noi. Si può usare Google Maps ma ci sono anche app specifiche per il ciclismo, Giorgione. Si, Google Maps è un buon punto di partenza per avere più o meno un'idea di dove andare, però come strava permette di pianificare un percorso adatto alle biciclette, selezionando anche il tipo di superficie. Una volta pianificato il percorso lo si può inviare sul proprio telefono, se si aggancia al manubrio con i vari supporti in commercio, oppure se si ha a disposizione un ciclo computer con GPS ultima generazione si può mandare direttamente e farsi guidare come un navigatore delle auto. Una delle paure principali che può avere una persona che si approccia per la prima volta ai 100 km è quella dell'inconveniente. Bucare, rompere la catena, il cambio, sono alcuni degli scenari in cui nessuno vorrebbe immaginarsi. Esatto, quindi prevenire è meglio che curare. Se abbiamo un cambio che fa rumore o che salta, registriamolo. Se la bicicletta è completamente sporca, non riusciamo nemmeno a vedere se c'è qualcosa che non va, puliamola. Se abbiamo le gomme sgonfie, non ci ricordiamo le tue volte che le abbiamo gonfiate, gonfiamole. Se si vede la tela del copertone, se è completamente piatto, probabilmente bisogna sostituirlo. Quindi sono tante cose che è meglio controllare prima di uscire per evitare poi inconvenienti. Però a volte gli inconvenienti possono capitare anche se siamo stati attenti a tutto e per questo esiste il nostro borsello con tutto il kit necessario per cambiare la camera d'aria e fare riparazioni volanti che ovviamente tutti possiamo fare. Abbiamo la camera d'aria, la bomboletta CO2, abbiamo il multi-tool e infine due cacciagomme per togliere il copertone. Anche se abbiamo un sistema tubeless che quindi si autoripara con liquido sigillante, portiamo comunque queste cose perché in caso di foratura più grave dovremo inserire una camera d'aria dentro il sistema tubeless e mettere magari anche una toppa all'interno della gomma. Abbiamo fatto una marea di video specifici su come intervenire in questi casi, tra cui uno che spiega anche come ripara una catena se dovesse rompersi in strada. In questo caso nel multi-tool dovrà essere presente anche uno smaglia a catena. Comunque non preoccupate, è una cosa che capita rarissimamente ed è uno dei motivi in più per cui ha senso uscire con qualcuno di più esperto a prima volta almeno. Cercate possibilmente di utilizzare un abbigliamento tecnico adeguato e non le maglie di cotone che si usano nella vita di tutti i giorni. Questo aiuterà a rendere la vostra uscita sicuramente più piacevole come anche utilizzare i guantini che noi non mettiamo mai, Giorgione, però quelli fanno comodo. Questo è un discorso di sicurezza perché quando si cade la prima cosa che si appoggia sono le mani e se non avete i guantini ve le grattate per bene. Non potete sempre di noi in questo caso. Altra cosa ovviamente riguante la sicurezza è il casco. Non è obbligatorio per legge ma vi invitiamo sicuramente a metterlo, non ci avete mai bisogno a casco perché è una cosa che va indossata assolutamente. Aggiungere anche gli occhiali perché se fate una lunga uscita è possibile prendere insetti o sassi negli occhi e questo potrebbe rovinare in maniera drastica la vostra avventura. Non dovete spendere 1000 euro di kit inizialmente per uscita in bicicletta, basta veramente comprare cose entry level però prendetele almeno queste cose perché altrimenti non va bene. Sempre in tema sicurezza può essere interessante far sapere a chi ci vuole bene dove siamo. Quindi si possono attivare le funzioni beacon sia su Strava che su Garmin quindi sono dei tracciatori che fanno sempre vedere dove siamo. C'è anche la funzione sicurezza che in caso di caduta i Garmin può chiamare a casa direttamente. Ne abbiamo proprio recentemente. Oppure molto più semplicemente si possono usare dei tracciamenti come quelli di Whatsapp o quelli che usa Apple. Però l'importante è far sapere dove siamo perché se non possiamo chiamare almeno ci vengono a recuperare. E così chi è a casa è anche più tranquillo o no? Allora 100 chilometri vuol dire stare in giro 4 ore se non si va troppo forte e 4 ore soprattutto d'estate con il caldo vuol dire bere tanto. Almeno due borracce l'ora che vuol dire che ce ne serviranno 8 se sono da mezzo litro. Il che vuol dire che dovremmo riempirle per forza durante il percorso. Oltre al bere è importantissimo ovviamente anche il mangiare. È difficile dare un consiglio preciso. Ci sono persone che pedalano e in 4 ore non mangiano quasi niente. Fanno solo colazione, chi si ferma 3-4 volte al bar, chi prende solo gel, barrette oppure carboidrati solubili nella borraccia. E chi si porta l'equivalente della cena di Capodanno. Esatto. Ognuno fa un po' quello che gli pare. L'importante è trovare la giusta strategia per voi. Direi che inizialmente è meglio esagerare piuttosto che rimanere senza. Quindi portatevi più cose da mangiare, al limite ve le siete portate dietro come peso. C'è il dubbio, dice Sergio. E non rischiate di rimanere senza benzina perché alla fine sennò diventa complicato arrivare a casa. Poi ragazzi mi raccomando portate sempre dietro un po' di soldi o anche solo la carta di credito perché... Che i gelati sono buoni. I gelati sono buoni. È bello fare le soste bar anche perché dobbiamo fare 100 cronati. Non dobbiamo fare la performance e farli nel minor tempo possibile. No, le soste sono belle. Piuttosto si parte un po' prima la mattina, meno da non rischiare di arrivare troppo a portate della sera. Però fermiamoci quando vogliamo, riposare un pochino e mangiare qualcosa di buono. Quindi portofogli sempre in tasca. Oppure si può collegare la carta di credito allo smartwatch, al telefono, a quello che si vuole. O portarsi direttamente la carta nella corda del telefono. E riuscire a pagare Giorgione per mandarsi questo buon gelatino. Ultimo consiglio, divertitevi. State scoprendo un mondo bellissimo. A mano che aumenterete i vostri chilometraggi, allungherete. I vostri giri potete vedere posti nuovi, quindi sarà sempre più divertente. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, un bel like, condividetelo con i vostri amici che non hanno ancora fatto 100 km e arrivi alla prossima puntata. Buono sto gelato, eh? Eh, vi ce l'ho detto a portato. Aggiù da solo. Cosa ha finito? E poi non altro.